buongiorno benvenuti nel mio canale ieri abbiamo visto come scattare delle fotografie in formato raw r a w con alcuni dispositivi io ho fatto l'esempio di un cellulare di tutto top di gamma e come queste foto in formato raw aprirle e editarle con il plugin camera raw di photoshop che è già installato su photoshop adobe l'azienda adobe le foto in raw le utilizza tramite l'estensione dng perché ciascun produttore ha una ha un proprio formato proprietario per le foto in raw sono delle fotografie che possono essere editate successivamente si possono cambiare successivamente tutti i dati anche della dell'obiettivo della macchina fotografica come per esempio l'esposizione bilanciamento del bianco quindi sono molto più pesanti delle delle immagini in jpeg in cui l'interpolazione fra i vari canali è già avvenuta dunque adobe riesce con il formato dng delle foto in raw appunto a aprirle e a fare una sorta di post produzione prima di aprirle effettivamente su photoshop questo lo si può fare anche con gimp attraverso un plugin che è gratuito come del resto è gratuito anche gimp se la vostra fotocamera il vostro cellulare non salva le foto in raw in formato dng e magari non si aprono con questo plugin di gimp potete utilizzare il convertitore emesso appunto sempre da adobe che è questo adobe dng converte che è per windows e per mac che converte tutte le foto in dng ovviamente io tutti questi riferimenti tutti questi indirizzi li metterò nella guida testuale che sarà linkata sotto il player del video detto questo come si fa a aprire una foto in raw in questo caso vi faccio vedere come si fa a aprire una foto dng con gimp bisogna installare un plugin che è questo che si chiama dark table eccolo qua qui ci sono tutte le opzioni per i vari sistemi operativi se uno ha windows clicca su windows e scarica l'ultima versione di windows qui io l'ho già scaricata questa è l'ultima versione di windows si clicca sopra e si installa esattamente come qualsiasi altro programma sono un doppio clic poi mi dice che dal tempo è già installata chiaramente io l'ho già installato quindi vado sul nuovo però per lì per la installazione si va su avanti qui si va su accetto quindi la installo nuovamente anche se avevo già installata qui scelgo la cartella di destinazione vado su avanti ancora su avanti e quindi si installa e attendo alla fine dell'installazione di dark table nel computer e adesso chiudo questa come vedete un'immagine in formato dng cioè quindi un immagine in raw per aprirla adesso con gimp e cosa faccio apro gimp vado qua su file apri e seleziono l'immagine in png che abbiamo visto precedentemente c'è in png in dng scusate la seleziono vado su apri e non si aprirà direttamente in gimp ma si aprirà in dark table come vedete si sta aprendo dark table ed ecco questo è il plugin di gimp io adesso non sto a spiegarvi tutte le cose che si possono fare anche perché non lo so francamente qui come vedete però ci sono un sacco di cursori per ogni qui c'è la tinta temperatura chiaramente qui si può anche scegliere un'altra nitidezza per esempio si può aumentare o meno c'è la lavorazione in tempo reale curva base orientamento bilanciamento del bianco possiamo aumentare il blu per esempio come vedete l'immagine in raw quindi può essere o in verde può essere quindi adattata alle nostre esigenze anche con gimp quando abbiamo qui sulla sinistra ci sono ancora altri altri comandi ripeto io non li conosco qui come vedete ci sono varie schede questa è la scheda qui c'è un'altra scheda un'altra scheda ancora con equalizzatore di toni per esempio questa è un'altra scheda per il contrasto locale qui c'è la scheda del bilanciamento del colore questo si capisce qualcosa più o meno vuol dire qui c'è un'altra scheda ancora con la rimozione della boschia o correzione obiettivo e più o meno sono le stesse cose che abbiamo già visto su su photoshop quando abbiamo editato la nostra foto con questo plugin si chiama dark table cosa facciamo semplicemente lo chiudiamo cosa succede succede che l'immagine verrà come vedete ecco aperta in gimp ma sarà un'immagine che abbiamo già editato precedentemente sul dark table e a questo punto l'immagine potrà essere editata in gimp come ci pare con i soliti strumenti di gimp comunque dark table se non lo sapete usare come il resto anche io non lo so usare ha un manuale d'uso che è qui come vedete questo manuale è anche in italiano io ovviamente vi linkerò anche il manuale per eventualmente conoscere tutte tutte le varie opzioni di editing delle foto in formato raw o in formato dng se usate il formato proprietario di adobe e qui c'è il dng converter per convertire tutte le altre tutti gli altri formati raw formati grezzi in dng per windows e per mac questo è tutto alla prossima volta grazie a tutti grazie a tutti